Entro la sera del 4 aprile, giovedì, il Giardino dei Nonni, così si chiama la Casa Famiglia di Redavalle, finita sotto i riflettori per presunti casi di maltrattamento degli ospiti, dovrà essere chiusa e gli anziani tutti tassativamente trasferiti altrove. È quanto prevede l'ordinanza emanata dal Comune il 20 marzo scorso, dopo che, il giorno prima, il 19 marzo, i carabinieri avevano svolto un sopraluogo nella struttura rilevando gravi problemi, ad iniziare dal fatto che la Casa Famiglia, sulla carta, poteva ospitare soltanto 4 anziani, mentre all'interno ce n'erano 11. Per continuare con il fatto ancora più grave, si è confermato che tutti, secondo il rapporto di ATS e Pavia, sarebbero stati non autosufficienti e quindi incompatibili con quel tipo di struttura. Secondo il rasoconto dei NAS, poi, gli anziani erano in pessime condizioni, avevano freddo perché mancava l'impianto di riscaldamento, mentre le condizioni igienico-sanitarie dei locali, alcuni probabilmente anche abusivi dal punto di vista edilizio, erano pessime con escreventi mai puliti e miasmi nauseabondi. Ancora, secondo i carabinieri, non c'era illuminazione elettrica, monta scale e corrimani, bagni per i disabili, un'unica cucina in quello che, per l'ufficio tecnico del Comune, era un magazzino ufficialmente. La triste vicenda è emersa dopo che un ex collaboratore della titolare, Liana Fasullo, sessantenne residente a Lungavilla, aveva documentato con alcuni video il degrado, denunciando la situazione. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo su questo caso e sta indagando sulla vicenda.